Mi compiaccio con la decisione del Consiglio delle Marche, perché le Marche a tutt'oggi è stata la prima regione d'Italia a dedicare una riflessione ben organizzata sul tema che l'enciclica popale ha sollevato. Mi chiedo perché le altre regioni non facciano altrettanto, quindi una buona volta le Marche hanno un primato. In secondo luogo è importante che dalle interventi che io ho ascoltato sia emersa una convergenza, anzitutto, sui punti nodali dell'encicla e che in secondo luogo la volontà, più ancora che la decisione, di trasferire quegli messaggi e quegli insegnamenti in provvedimenti sia legislativi sia amministrativi che riguardano il territorio delle Marche. Le Marche godono di un vantaggio, si tratta di una regione di non grandissime dimensioni e proprio per questo è più facilitata nell'attuare provvedimenti di conservazione del suolo, di provvedimenti in generale in materia ambientale rispetto alle regioni grandi. Io mi auguro che questo messaggio venga recepito e tradotto in provvedimenti adeguati.